Come far crescere la reputazione del nostro hotel online? Cerchiamo di scoprirlo in questo video perché io lo so ragazzi ho passato tanti tanti anni dietro a quei banconi della reception e vedevo il direttore che faceva Tu, tu, sì sì, tu mi piaci Inizia a fare qualche post su Facebook e poi se non funziona mi incazzo pure e invece no, cerchiamo di capire come far crescere per davvero la reputazione del nostro hotel dopo la sigla Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video a tema hotel marketing Cercheremo di capire insieme come far crescere la reputazione del nostro hotel online davvero in pochi semplici passaggi che saranno in realtà banali ma vedrete, se seguirete i miei consigli, come cambieranno le cose per la vostra reputazione online Prima di iniziare però, come sempre, iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti Poi per supportarmi potete condividere i miei video con i vostri amici Ma veniamo all'argomento clou di questo video e parliamo di quelli che sono i consigli che io vi voglio dare Bene, prima di tutto dovete pianificare Come vi dicevo all'inizio del video, prendere il primo receptionist appena assunto e messo lì e buttato in passo al mondo digital non serve assolutamente a niente Tra poco ragazzi sarà San Valentino e giorno 13 vedremo dei fantastici menu oppure le varie offerte Quindi ormai è tardissimo, si possono prendere poche persone Oppure il primo di agosto si inizia a pensare per qualche campagna di ferragosto No, tutto deve essere pianificato in anticipo E' ovvio che poi le modifiche possono essere fatte, ci mancherebbe Però le cose non vanno fatte a casaccio Perché poi vedrete, si unisce tutto e ovviamente una strategia ben pensata Vi evita di fare degli errori e di modificare anche ciò che non va in corso d'opera Quindi la parola chiave di tutto questo lavoro che voi dovete andare a fare è pianificare L'altra cosa che è importante fare è capire chi c'è dietro del vostro schermo In questo momento non vi starò a dire dovete conoscere la vostra buyer persone, il vostro target Semplicemente vi dico che la maggior parte degli utenti utilizza per navigare il cellulare Sono stati fatti degli studi in merito Calcolate che la maggior parte delle persone, il 90% degli utenti Sono in grado di organizzare un intero viaggio da cellulare Quindi se voi avete un sito che non è responsive da mobile E quindi sostanzialmente la gente fa fatica a navigare sul vostro sito Dove va? Se ne va su Booking Perché su Booking gli dà invece tutta la pappa pronta Quindi che cosa si deve fare? Avere un sito che funzioni per bene Renda tutto il percorso di prenotazione veramente semplice Ma dobbiamo pensare al fatto che venga utilizzato cellulare anche quando noi pubblichiamo sui social Perché vi ricordate quel fantastico menù di San Valentino che uscirà il giorno prima? Bene, ci sono alcuni di voi che fanno veramente delle grafiche da desktop E quando vengono poi pubblicate sui social sono talmente piccole Scritte talmente in piccolo che non si legge un tubo Ora, togliete me che io sporto gli occhiali, sono mio, peh e non vedo nulla Ma c'è gente che ci vede molto meglio E avendo questi cellulari, ragazzi, non si legge niente Quindi i vostri, sostanzialmente, menu, le vostre offerte non funzioneranno Quindi non pensate alle persone che faranno lo sforzo di fare lo screenshot della foto per poi ingrandirla No, assolutamente Quindi mi raccomando Sì, va bene la grafica, dovete mettere il cuoricino, dovete mettere quello Ma quello che voi scrivete deve essere leggibile Il terzo consiglio che vi voglio dare è quello di organizzarvi con le foto Mi raccomando So che avete fatto questo bellissimo servizio fotografico alle vostre camere Dove avete messo questi beneretti cingli fatti con gli asciugamani Io odio questi cingli Fate un elefantino, cerchiamo di svecchiare sta roba Anni 80, 90, non lo so Fatto sta che cercate di sfruttare le foto di tutta la vostra struttura Ok? Non pubblicate solo la foto della camera con questo letto Con il copriletto che magari non è stato ben stirato Quindi c'è tutte quelle pieghe che è pure brutto Ok? Oppure come dicevo la foto del letto con sto cigno sopra o quella del bagno Un conto che voi avete è una super basket o massaggio con vista lago, vista montagna Ma sinceramente non tutti abbiamo a disposizione ciò Quindi che cosa fare? Fate vedere altri punti del vostro hotel, magari delle particolarità Fate vedere il personale Ok? Il vostro hotel è composto da persone Fate conoscere loro ancora prima che i vostri clienti arrivino in hotel E soprattutto mettete il naso fuori dalla vostra struttura Perché voi siete circondati da bellezze Magari sono un po' più di chilometri da voi, non sono proprio sotto Appena usciti dalla struttura Però ricordate alle persone perché devono utilizzare il vostro hotel Come punto di appoggio per la loro prossima vacanza Perché credetemi, le persone fanno anche questo tipo di ricerche Non vogliono solamente la struttura, la foto della camera non funziona più Voi che cosa dovete fare? Dovete far sognare Ok? Quindi con bei posti, foto di cibo Foto dei vostri dipendenti o foto vostre stesse di proprietari Farete in modo di raccontare una storia e far sognare il vostro utente Ancora prima del loro avvio E quindi qui si va a collegare il mio quarto consiglio assolutamente Che non è solo legato alle foto Ma come poi comporrete l'offerta Se vi sto dicendo di far sognare Potete mettere anche delle belle foto Ma se la vostra offerta si compone sempre di Camera superior, 25 metri quadri, figo in camera Mezza pensione con acqua inclusa Ragazzi, non ce ne facciamo niente di questo tipo di offerte Sono brutte, non fanno sognare per l'appunto l'utente Quindi ci dobbiamo muovere e creare qualcosa Che per l'appunto racconti una storia Quindi cerchiamo di puntare alla Non lo so, se magari abbiamo un target femminile Se stiamo puntando al relax Abbiamo questa benedetta vista mare Bene, raccontiamo la bellezza di svegliarsi la mattina Aprire la finestra e avere questa vista sul mare Che ti renderà felice Mentre assapori la nostra colazione Home made, eccetera Ecco, possiamo davvero scrivere di tutto Ma pensate bene, se è la stessa cosa Dite, che ne so, camera superior, vista mare Colazione inclusa Capite bene che si tratta proprio di una cosa completamente diversa Quindi mi raccomando Usate lo storytelling nel momento in cui voi create le offerte Perché in questo modo Facciamo sognare È questo che dobbiamo fare Le persone Le persone non piace che gli si venda qualcosa Ok? Quindi voi non gli dovete dare questa impressione Dovete fare in modo che loro Credano comunque di avere il coltello dalla parte del manico Quindi non facciamo un marketing vecchio stampo Il compra, compra, compra Ma utilizziamo le varie tecniche di copywriting Che ci aiutano poi a crescere e a migliorare le nostre offerte Quindi l'ultimo consiglio che ti voglio dare in questo video È quello di rendere protagonista i tuoi clienti Soprattutto questa è una tecnica di copywriting che si chiama social proof Cosa significa? Ricondividete le foto, i video dei vostri clienti Le stories Oppure create delle grafiche dove fate vedere Le recensioni entusiaste di coloro che hanno già soggiornato da voi Perché nel momento in cui le persone sono in fase di ricerca E si informano sulla vostra struttura Voi gli fornite già quello che loro stanno cercando E lo potete fare magari sotto forma di highlights Se voi utilizzate Instagram Quindi create delle highlights dove fate un contenitore per le recensioni Un contenitore dove ricondividete le stories dei vostri clienti entusiasti e così via Su Facebook voi potete fare delle grafiche apposta dove fate vedere le recensioni Stessa cosa fare un bel video dove raccogliete tutte quelle che sono le testimonianze dei vostri clienti Le possibilità per rendere protagonisti i vostri clienti sono davvero tante Quello che potreste fare è prendere anche un angolino e renderlo Instagrammabile Ovvero fare in modo che le persone abbiano voglia di farsi una foto lì per pubblicarla E ovviamente li invitate poi all'azione a mettere la geolocalizzazione Comunque mettere il vostro hashtag O semplicemente a menzionarvi all'interno di quel post o di quella story Quindi come vedete questi sono i miei consigli base ragazzi per poter far conoscere il vostro hotel Comunque la vostra struttura sopra le piattaforme Perché io parlo di piattaforme perché come vedete non vi ho parlato solamente di social Magari di Instagram, Facebook ma vi ho parlato anche del sito Che è davvero molto importante Io mi incazzo ogni volta che vedo ex colleghi o comunque coloro che adesso stanno Che continuano a lavorare nel mondo alberghiero I quali ritengono booking ancora fondamentale per la loro strategia di marketing Per la crescita del loro hotel Certo perché booking semplicemente che cosa sta facendo fa marketing posto tuo Quindi tutte quelle commissioni che poi ogni mese tu piangi di dover pagare Sostanzialmente le stai investendo su booking per fare marketing Togli quel budget da booking, fai tu marketing diretto e vedi come cambieranno le cose E come ti potrai permettere più tariffe a prezzo pieno Quindi io spero come sempre che questo video vi sia stato utile Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti E prima di andar via iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche Io vi aspetto nel prossimo video Besos E prima di andar via iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche